Il mondo del lavoro è già stato trasformato dall'irrompere di nuove tecnologie su tutte l'intelligenza artificiale che ci costringono queste tecnologie a riprogrammare con urgenza le politiche sociali e occupazionali dei nostri paesi. Voglio parlare di questo perché come relatore del regolamento sull'intelligenza artificiale sto lavorando per plasmare un nuovo approccio europeo sull'intelligenza artificiale che ponga l'uomo al centro, l'essere umano bilanciando la necessità di un quadro normativo che favorisca l'innovazione, sì ma che tuteli al tempo stesso i diritti fondamentali inclusi il diritto ai condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, oggetto di questo importante lavoro che discutiamo oggi. Sempre più spesso il lavoro è supervisionato e coordinato da algoritmi, da big data che tracciano produttività dei lavoratori, la loro posizione, i loro segni vitali, le espressioni microfacciali. Non possiamo permettere che l'ufficio o la fabbrica si trasformino in ambienti da scenario orwelliano. La salute psicofisica dei lavoratori non deve essere messa a repentaglio. Servono nuove regole perché le macchine devono essere al servizio dell'uomo e non il contrario. Grazie.